L'abbiamo capito finalmente che il problema del Milan non è Rafa Leao, ma che probabilmente è nella gestione dei cambi e soprattutto che è nella gestione dei cambi e del ruolo dei difensori centrali. No, perché io veramente non riesco a concepire l'allenatore Paolo Fonseca come faccio ogni partita a cambiare la copia dei difensori centrali, sapendo soprattutto che c'è un problema in difesa molto grande, perché se tu prendi due gol dallo Slovian Bratislava c'è un problema molto grande. Ma comunque, vediamo le pagelle di Slovian Bratislava-Milan con Eleonora Minetti, in porta Mike Magnan, non è sicuramente colpevole dei due gol subiti, quindi io gli do il bel 6 politico, non fa mai male. Teo Hernandez, Teo Hernandez, dove sei finito? Io vorrei sapere il capitano, Teo Hernandez, dove è finito? Il giocatore, il terzino, che riusciva a fare gol, che ha fatto cost to cost contro l'Atalanta nell'anno dello scudetto di Pioli, dove è finito? Perché io sinceramente non lo ritrovo più e spero anche i tifosi siano d'accordo con me. Non lo so, vediamo, ma il problema sicuramente non è Teo Hernandez. Passiamo dall'altra parte, cosa dite? Calabria. Calabria, io non ho più parole, io gli do 5 e va bene così, mi soffermo solo sul voto perché non voglio commentare niente. Passiamo a Pavlovich e a Tomori, una nuova copia di difensori centrali, entrambi 5 e mezzo, entrambi però sono responsabili di un salvataggio, quindi questo ce l'ha a dirlo, ma no, non è possibile. Il baricentro troppo alto in tutta la partita, non è possibile soffrire così tanto i contropiedi, non è possibile, contro una squadra che con tutto rispetto è abbastanza imbarazzante. Centrocampo, Reinders e Fofana, Fofana 6 e mezzo, Reinders un po' nascosto 6, Christian Pulisic ha fatto il gol quindi 7, da una parte Ciuqueze e dall'altra Okafor, Ciuqueze e Okafor stesso voto, io gli do 6, e poi davanti abbiamo Abraham che ha fatto gol, quindi gli diamo un bel 7. I subentrati, Raffa Leao, 7 anche lui, poi è entrato Emerson Royal, meglio non commentarlo, Love to Chick 6, Musa 5 e mezzo, non lo vedo ancora, anche contro la Juve non ha fatto molto bene. E niente, queste sono le pagelle mie, fatemi sapere cosa ne pensate, però veramente, una richiesta al baricentro, abbassatelo un po', perché non è possibile prendere tutti questi contropiedi, non è possibile, perché poi ti va bene una volta, ti va bene due, alla terza prendi gol, ed è quello che è successo. Grazie a tutti.